La murgia materana conserva le più affascinanti vestigia delle civiltà rupestre presenti in Italia, offrendo elementi storico-naturali che consentono di distinguere le culture diverse che nel corso dei millenni si sono succedute nel territorio. Culture tutte ancorate ad un ambiente naturale che ha formato e condizionato l'identità delle stesse. Matera, per formazione geologica, e per tipica struttura urbana, può essere considerata uno dei centri più importanti della città rupestre che da paleolitico giunge fino ai nostri giorni. Camminando lungo gli innumerevoli sentieri della murgia materana è facile incontrare grotte di varia natura. Alcuni di essi sono chiese rupestre, altri rifugio per pastori, cisterne con apposite vasche di decantazione dell'acqua per l'approvvigionamento idrico e tombe preistoriche, simbolo della presenza sin dal paleolitico dell'uomo in questo territorio. Grazie!